il concorde era un sogno tecnologico era ciò che più aveva avvicinato gli uomini normali all'avventura spaziale che solo pochi fortunati avevano potuto affrontare nei decenni precedenti il concorde riduceva le distanze abbattevi i tempi era un aereo straordinario da vedere ma era anche un grande affare nato da una comproduzione inglese francese acquistato dalle principali linee aeree internazionali sapeva andare oltre la barriera del suono era l'aereo supersonico civile il primo tentato al di là di un tupolev con il quale concorda inizialmente almeno era in competizione per superare la massima velocità possibile quel disastro interruppe il sogno e anche i tentativi seguenti di riportarlo in volo non ebbero molta fortuna perché incrociarono un clima completamente diverso per tutto quello che era il trasporto aereo innescato come facilmente comprensibile dalle torri gemelli e dall'attentato del settembre del 2001 questo portò rapidamente alla conclusione dell'esperienza del concorda lasciandoci forse un piccolo insegnamento e cioè che bisogna saper trovare comunque un punto di equilibrio quando si vive un sogno e immaginare qual è davvero il punto in cui questo sogno diventa realizzabile